Avvocato, voglio presentare una domanda di invalidità? E per fortuna oggi posso allegare la documentazione medica sul sito dell'Inps evitando di andare a visita. È la scelta migliore? Devi sapere che dall'anno scorso l'Inps consente la possibilità di inserire la documentazione medica all'interno del fascicolo al fine di evitare la visita. Attenzione però, perché questa non è assolutamente la scelta migliore. Infatti, cosa sta accadendo? Che in caso di mancato riconoscimento e successivo ricorso, l'Inps si sta difendendo dicendo che non era a conoscenza degli ulteriori referti che non erano stati inseriti. E dunque questi referti, non essendo stati valutati, non possono essere prodotti in tribunale. Quindi attenzione, non chiedete mai la visita sugli atti, ma chiedete la visita di persona.